Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4 Allora ragazzi, ci eravamo lasciati con una verità abbastanza scomoda che stava per uscire a galla E raga, siamo appunto a casa di Eric, che lui tranquillamente sta dormendo ragazzuoli Ma la nostra Laila in realtà non riesce a dormire, si è fermata qui dallo zio e ragazzuoli miei cari Guardate un po', Laila sta andando di nuovo alla tomba, diciamo, della madre Perché ha scoperto che appunto la madre è morta e guardate un po', ritrova proprio lei Guardate, lei è triste proprio perché è morta e guardate un po', Selina la ritrova E lei dice, mamma, mamma, ma sto sognando E lei dice, no, non stai sognando, chiacchiera qui Venite un po' più lontano da questo albero gigantesco Dice, non stai sognando, sono qui davvero Ho sentito la tua... fai delle facce buffe Ho sentito la tua presenza e sono venuta Abbraccia affettosamente, vedete, lei sta migliorando l'empatia E un po', ovviamente cerca di scherzare un po' Chiedi un consiglio, dice, mamma, ma cosa è successo? Come sei morta? Eccetera, eccetera, eccetera Ma Selina le dice, ovviamente, chiedi di un altro sim Ma chiedi di... ah, gli chiede di Arti Gli dice, ma il nonno è lì con te, da dove vieni? Chiedi dell'essere morti, per l'appunto Guardate, lei è furente per cosa? Nuovo mal di zanne? Proprio perché, per l'appunto, raga, condividi un segreto Nel senso che lei, ovviamente, dice alla madre Sono un licantropo, ho scoperto di essere un licantropo Presto mi dovrò trasformare, eccetera, eccetera, eccetera E, ovviamente, indica gli inconvenienti dei vampiri Discuti degli interessi Ovviamente lei le dice, io non ti posso dire niente Ma portami qui, tuo padre Discuti degli interessi E, ovviamente, Layla dice, mamma, non so se tu lo sai Ma papà sta con un'altra donna, con Jean Lei, ovviamente, lo sa E le dice, sì, lo so È una brava donna Mi sembra molto buona Spero ti tratti bene E... Lei, diciamo che ora è felice, ragazzi E infatti torna a casa In tutto questo, ragazzi, come siamo messi con la luna? Perché dobbiamo andare a prendere, come dire, il... Il fiore là, il petalo di luna che cresce a Moonwood Mill E dobbiamo cercare di prenderlo quanto prima Pianta di salvia Ok, qui c'è un posto dove si può... Perché lei cammina così che dovresti essere felice? E, ragazzi, quindi la nostra... La nostra Layla ha ritrovato la madre Ovviamente lei appena arriva a casa Lo racconta al padre Gli dice un po' di tutto E, ovviamente, il padre è un po' incredulo Non sa se sono, diciamo, fantasticherie di Layla Oppure no Quindi non è che ci crede più di tanto Però il dubbio, ovviamente, si insinua E si insinua, raga, da quando? Da quando, comunque, il suo fratello Allora, Layla dobbiamo mandare a fare jogging, ragazzi Da quando suo fratello, comunque, scappò, no? Si allontanò di colpo dalla famiglia E non si fece più vedere Lui, ovviamente, ne parla con Amelia E Amelia, ovviamente, dice Richard, io, tuo fratello, lo sai Non lo capisco più Nel senso che non è più... Non si fa più vedere Si fa vedere giusto Ha una vita lì nella magia Quindi, che te devo di? Che te devo di? Allora, scusate Con lui No Sì, riprendi dipinto pop art grande Che lui, comunque, deve cercare la cura, raga E principalmente dobbiamo cercare Lei, alle 4 del mattino Anzi, alle 5 del mattino Sta facendo jogging Per rimettersi in forma, raga La amo La amo Io, Jin, comunque, a me piace tantissimo Lui parla con la sua matrigna Poi, d'altra parte Oddio, ma lei deve andare in bagno, raga Raghi Allora, aspettate Facciamo una cosa Con lei Con lui Sì, perché no? Mandiamola in bagno Dov'è il bagno in questo posto? Vediamo se riusciamo a mandarla Insegni Insegni a Banni A usare il vasino Lui velocissimo Non so se lei Se la sta già facendo addosso Lui è velocissimo, raga Lo adoro L'adoro per questo motivo Vai Vai in bagno Raggiunto il livello 5 di forma fisica Molto, molto bene Lei sta andando in bagno, raga Si dovrebbe anche un po' divertire C'è dell'imbarazzo? Forse sì Sono le 6 del mattino Ma mandiamo un attimo lei a dormire Perché se no Mi crolla Oggi va al lavoro Ah, sì In realtà sì Quindi aspetta Ti faccio fare solo un pisolino Raggiunto il livello 5 di forma fisica Molto, molto bene Lei deve andare al lavoro oggi Va al lavoro alle 10 Adoro Vanno tutti al lavoro, raga E sono tutti stanchi Lui va al lavoro oggi No, lui c'ha la giornata libera Per fortuna Per fortuna, raga Lei sta cagando La bambina Adoro Adoro Oggi è venerdì Quindi dovrebbero andare anche a scuola Amo Riesci a riprendere il dipinto pop art Vediamo se ci riesci Perché no? Riprendi il dipinto pop art Perché non mi te lo fa fare? Vai qui Vediamo se riesce Se riusciamo Se ti avvicino Niente Allora facciamo una cosa Secondo me questo Dobbiamo scartare il dipinto E riprendere Dipingi Dipinto e figurativo Dai Lei sta cagando Raga Comunque è scoppiata Questa piccola bomba Questa piccola bomba a mano Amo Potresti mangiare da sola Tipo Prenditi una porzione da sola Dai Lei in tutto questo Non ha fatto i compiti Immagino Figurati Però dobbiamo raggiungere Il livello 10D Motoria Ah Scusate Io quando sono qui Modalità di gioco Sim usati in gioco Ok In realtà Solo unità familiare Per ora Perché non ho messo Le varie famiglie Però portiamoli avanti Che sennò questi Non mi crescono mai Amo Svegliati E in realtà Non so se riesci ad andare a fare jogging E soprattutto se lo puoi fare tu Fai capricci Combinati Apri l'ombrello Sediti per terra No Non lo puoi fare Allora vieni qui un attimo Ed Esercitati nella battitura Che ti dovrebbe dare Diciamo un po' di Allenamento Per Il Appunto Per Come si dice L'abilità motoria Lui ha fatto il quadro Riprendi dipinto figurativo Raga ma che bug è questo Che due maroni Posso dire Scusate Secondo me È lo spazio Allora Vediamo se Se lo metto al centro Lo riprende Sì era lo spazio Raga allora Amelia si trova al lavoro E amica Io ti direi di Anche lavorare suodo Bravissima Te dovresti andare a scuola Amio Oddio Stai per fare il livello Il livello 10 però Te lo faccio fare Poi ti mando a scuola Un po' in ritardo Non lo so Senti vai a scuola Non sei ancora arrivata A livello 10 Lei cosa sta facendo Si deve divertire Quindi sta giocando Va bene ragazzi Allora Andiamo Con A parte che Lucidiamo la perfezione Sto coso E lei potrebbe Stringere amicizie In realtà Tu amo Devi andare a lavoro L'ho messo a stringere amicizie Così magari Iniziamo a incontrare anche Un po' di bambini Le facciamo fare un po' di amicizia Qui e lì E lui Invece Dato che c'è ancora Jin A casa Questo Lo vendiamo Vende alla galleria d'arte Che ci fanno fare un sacco De soldi Ok E viaggiamo raga Perché ovviamente Viaggia E ragazzuali miei belli Andremo proprio da Eric Scoppia completamente la bomba Secondo me Secondo me Una rabbia Glimmerbrook E Sì Però essendo giorno raga Non è detto Cioè lui non credo Incontrerà Selene Raga Quindi Cosa gli racconterà Eric Gli racconterà la verità Gli racconterà Una bugia Vorrà di sotterrare la moglie L'ex Anzi La madre di sua figlia Che cosa succederà Chi lo sa Allora Andiamo a bussare alla porta No In realtà Possiamo già entrare Eccolo qui Discuti dell'essere un lupo Mannaro Lui è Uh ragazzi Lui è già Molto infuriato Ovviamente Perché Raga Ora Lui Praticamente Malizioso Sostieni Oddio Instilla Falsa fiducia Ebbene sì raga Malizia Menti sulla carriera Raga Perfido Insulta La natura Debole E Ringhia Ragazzi Vedremo Questa Roba Raga Perché Ovviamente Richard Si fa dire Da Da Eric Eric ovviamente Mente Gli dice Sì È morta Per colpa Della magia Io ho fatto di tutto Per salvarla Eccetera Eccetera Lei non accettava Il tuo essere Lupo Mannaro Lui ovviamente Dice Ma come è possibile Cioè Ci siamo conosciuti A Glimmerbrook Quindi Lui sa Che sta In qualche modo Mentendo E soprattutto Oddio Disputa Dell'ambiente sporco E soprattutto Dai regalo Il ringhia Mi piace il ringhia Raga Adoro Anzi Lui si trasforma Raga Trasformati Ebbene sì Ovviamente E lui dice Io ci voglio vedere Meglio Ci voglio vedere Cioè Voilà E mo so cazzi tua Obietta alla malizia Oh girl Oh girl Stanno litigando Più che altro Ragazzi Quello che Richard Non capisce E che quindi Giustamente lui dice Ma è vero Non è vero Non riesce a Usa parole proibite Non riesce a credere Al fratello Dice Se tu però Lo sapevi Perché non me l'hai detto Giustamente Disputa Di chi è migliore Adoro Lui dice Se tu lo sapevi Perché non me l'hai detto E lui diceva Io volevo proteggere Tutti Eccetera Eccetera Però Giustamente Raga Cioè Ordine Cioè Nel senso Rispingi Richard non ci crede Raga Ed è anche normale Che sia così Insulta la natura Debole Lupo Mannaro Vai a caccia Torna Attiva Un istinto Primordiale Adoro Loro raga Ovviamente Si scannano Si litigano Cioè È il momento Della verità Se ci pensate No Perché comunque Zahira Che si mette in mezzo E Richard Penso di avere una cotta Per Michael Bell Secondo te Dovresti essere tu A pensarci su Cioè Cazzo vuoi da noi Bunny È stata mandata All'asilo Direi anche No Lui ovviamente Dice Ora stai lontano Dalla mia famiglia E soprattutto Lui praticamente Incidi l'epitaffio In lutto Per serenire La forza Rafforza La connessione Laila ha incontrato Jill a scuola Adoro Patatina Lascia un'offerta Per un teschio di zucchero Leggi l'epitaffio Libera lo spirito In lutto Raga Io in realtà Volevo mettermela Nella Nell'inventario Troverò il modo Per Metterla nell'inventario E la porterò A casa Diciamo Di Richard Nel senso che Richard dice Io Voglio La tomba Voglio la Diciamo No La stele Lì La Sì la stele Di Rosetta La tomba Nella mia casa Nel senso che Lo spirito di Selene Deve essere Vicino a sua figlia E Perché lui non sa Che ovviamente Ci può essere un fantasma No? Che potrebbe parlargli E forse succederà Ma Lui Ovviamente Oh guardate C'è Sean Bani è tornata Dall'asilo No amico Perché Io viaggio Ancora E provo Ad andare A Visto che ci troviamo Raga Provo ad andare Non A Moonwood 1000 Perché manca Cioè Dovremmo andarci Della Luna piena Ma provo ad andare Invece A prendere La conito Quindi a Forgotten Hollow Andiamo Qui Eh raga Contro i vampiri Tra l'altro Nel senso Dobbiamo stare attenti E lui ci va appunto Di giorno Da lupo mannaro Quindi Attenzione Attenzione Qui ovviamente Non c'è un minimo Di luce Bani è stata mandata In nuovo all'asilo E raga Ma la conito Osserva Sdradica pianta Io non capisco Come Cioè Come lo prendiamo La conito Qui che cos'è Acchiappa zanzare E qui è sempre A conito Raga Io non capisco Però Scusate Io la conito L'ho trovato Ma non è mai maturo Quindi Serve Un certo livello Di Giardinaggio Per prendere la conito Perché mi viene Ora il dubbio Di questa roba Lui è andato in bagno Adoro Simologia Laila ha incontrato Chiunque a scuola Molto bene Magari ci facciamo Anche un po' di amicizia Va bene Torniamo a casa E direi anche ragazzi Che Siamo arrivati A un quarto d'ora Di questo episodio Io non vedo l'ora Di giocare La nuova espansione Ora C'è la nuova espansione Con questa tipologia Di famiglia Raga Potrebbe essere La qualsiasi Lei se non è troppo Perché triste Trascurata Patata Ma Mazzitta Mazzitta Insegna le forme A Banni Dai Da lupo Capito Lui da lupo Si mette a Insegnare le forme Alla piccola Secondo me Gin Mangia Macedonia E tu Mangiate qualcosa In ogni caso Lei è molto infuriata Perché giornata peggiore Di sempre Raga Comunque Questa famiglia Un'ansia Lei invece Ha conosciuto Questi bimbi Quindi Gideon Jill Tain E Lucy Tra l'altro Sono tutti sim Del gioco Quindi Non dovremo Cancellare niente Va bene ragazzi Io direi che con questo Episodio Possiamo Terminare qui Se vi siete divertiti Mettete un mi piace Commentate Fatemi sapere cosa ne pensate Soprattutto L'aconito Come cavolo si prende L'aconito Perché io di trovarlo L'ho trovato Ma Non so come raccoglierlo Perché io lo volevo raccogliere E Come dire Coltivare in casa E E poi cos'è che vi volevo dire Cos'è che vi Forse non siamo nella stagione giusta Per fortuna Stiamo passando All All'autunno Magari in autunno È meglio E Niente Se siete nuovi Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E se volete sostenere questo canale Ovviamente c'è il tasto Super grazie Oppure Il link di Stan Gaming Raga Io non so se Già ho iniziato Ma forse Dovreste Vedere anche Degli episodi Di Hogwarts Legacy Forse porterò qualche video Fatemi sapere ovviamente Se questa cosa vi interessa E se Li ho già portati Se questa roba Vi piace E nulla Io vi mando un bacio Dal vostro Danzo è tutto E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti